900 i posti di lavoro persi negli ultimi sei mesi nel comparto offshore Ravennate, la cui occupazione è messa a rischio dal referendum che dovrà decidere se bloccare o meno le estrazioni di gas e petrolio in mare. Sull'argomento, in un'intervista radiofonica, il Premier Renzi ha sottolineato come il blocco delle trevellazioni produrrebbe una perdita di migliaia di posti di lavoro. Tema questo sottolineato anche dal consigliere regionale delle Miglia Romagna Gianni Bessi, che invece propone una triplice strategia per migliorare la produzione energetica nazionale. Sono d'accordo al 100% con quanto dichiarato da Matteo Renzi. Posso portare, per quanto riguarda il distretto offshore Ravennate, i dati che abbiamo stilato in queste settimane. Su 6.000 occupati del distretto offshore Ravennate, negli ultimi sei mesi si sono persi 900 posti di lavoro, 900 contratti. E c'è una proiezione da parte delle aziende che per il prossimo, per il 2016, se perdura questo blocco di investimenti, si arriva a quasi 2.500 posti di lavoro. Questo è un fattore molto, non solo di preoccupazione per quanto riguarda il settore, ma per tutto il sistema economico produttivo locale, regionale e nazionale. Voglio ricordare che nell'Adriatico si estrae gas dal 1960, la prima piattaforma è stata installata proprio a Ravenna, si chiamava Ravenna 1, e questo non ha impedito lo svilupparsi di tanti altri settori economici e della Ravenna che noi conosciamo, compreso anche molte delle attività portuali e del distretto industriale. E quali possono essere, secondo lei, consigliere, le soluzioni da mettere in campo? Tanto su diversi livelli. Il sistema paese, un piano nazionale strategico energetico, deve basarsi su tre punti fermi. Chiaramente gli investimenti sulle rinnovabili, sull'efficientamento energetico, ma credo, e secondo me anche a detta di molti, sull'utilizzo delle energie e delle fonti nazionali. In primo il gas, il gas metano. Noi abbiamo investito tantissimo il gas, il metano ti dà una mano, abbiamo metanizzato tutto il nostro sistema di riscaldamento delle case e di tutta la pianura padana che è una delle prime aree industriali europee. In altri paesi, per esempio in Gran Bretagna, il Premier Cameron ha costituito una task force per l'emergenza proprio in questo settore, perché chiaramente ci sono anche dinamiche geopolitiche internazionali che hanno portato al prezzo del petrolio e altri conflitti locali, come ben sappiamo. Però l'Italia, in particolare sul gas, dipende per il 90% dall'estero, dalla Russia, dai paesi come la Libia e l'Algeria, che sono anche soggetti a infiltrazioni terroristiche. Io credo che, visto la potenzialità italiana che potrebbe gestire quasi il 20% del fabbisogno di gas metano con risorse nazionali, sia importante un piano strategico. Per dire se è poco o tanto questo 20%, ricordo che dalla Libia e dall'Algeria noi importiamo quasi il 30% del gas metano da questi paesi o dalla Russia di Gazprom uguale, più del 30%. Quindi chiaramente si diminuirebbe la bolletta energetica nazionale, farebbero ripartire investimenti importanti. E ricordo per finire che le nostre aziende sono aziende di impiantistica, meccanica, di ingegneria, di sostegno alle grandi oil and company che possono in qualsiasi momento andare a investire in altri paesi, dal Mozambico al Kazakhstan, in tutto il mondo, non hanno certo problemi a smettere di investire in Italia. Però i danni e le preoccupazioni sull'occupazione ce le teniamo tutti noi come sta avvenendo in questo momento.